La nostra terapia intensiva neonatale ha 23 posti letto, è una delle più grandi in Europa, ricovera circa 1000 neonati ogni anno e ha tre grandi aree. Qui siamo nell'area dove ricoveriamo i neonati che hanno necessità dell'intervento dei nostri chirurghi pediatri, quindi è l'area per la chirurgia pre e post intervento ed è in questa area che in realtà vengono anche fatti alcuni interventi chirurgici nei neonati che sono più critici e che quindi non riusciamo e non vogliamo trasferire in sala operatoria ed è per quello che l'abbiamo attrezzata con tutta la tecnologia più recente, in particolare con questa nuova incubatrice che ci ha donato cieli azzurri e che permette ai nostri chirurghi di operare i neonati lasciandoli nella loro casetta di origine e garantendo poi la possibilità di seguirli anche nei giorni successivi. Questa culla ci aiuta molto perché come sappiamo noi operiamo dei bambini che sono estremamente di basso peso e solo il movimento del bambino dalla patologia neonatale alla sala operatoria può rappresentare un grossissimo problema, quindi la possibilità di operare questi piccolini dentro una culla, di non muoverli e di avere per noi comunque uno spazio operatorio che è uguale a quello della sala operatoria rappresenta per noi una sicurezza e per il bambino un grossissimo vantaggio. Per questo motivo siamo molto contenti di poter avere questi strumenti tecnologici così avanzati che ci consentono di fare cose che spesso non vengono realizzate in altri centri. Questa culla aiuta il chirurgo o meglio aiuta il neonato chirurgico che deve subire un intervento perché intorno a lui ruotano tutta una serie di figure fondamentali che sono il neonatologo in prima battuta, l'anestesista che ci consente di fare un intervento chirurgico, il chirurgo stesso, il tutto mantenendo un ambiente molto protetto per il bambino senza che vi siano delle dispersioni di liquidi di temperatura per cui la gestione dell'intervento è una gestione di un bambino che rimane stabile e che non risente dell'intervento chirurgico che è un evento traumatico per il bambino. La nostra associazione Celi Azzurri ha una missione che si identifica immediatamente nel momento in cui pensiamo anche al titolo completo della nostra associazione che è quella di Amici della Chirurgia Pediatrica. In sostanza è un'associazione che tente di aiutare le strutture, in particolare lombarde, ad offrire il massimo del supporto a mamme e bambini che devono attraversare un momento difficile, tipo quello in cui si ha bisogno per i propri figli, per i propri neonati, di un intervento chirurgico anche complesso. Facciamo questo in vari modi, sia come nel caso in oggetto donando tecnologie all'avanguardia, però lo facciamo anche in altri modi, per esempio aiutando la formazione del personale medico e paramedico, investendo nella ricerca. Uno dei nostri progetti è vuoto ad aiutare un altro ospedale, per quanto riguarda la ricerca e via discorrendo. Per fare questo raccogliamo fondi da privati cittadini, ovviamente dai nostri soci e anche da istituzioni rilevanti, in particolare con base nella nostra regione. Questi fondi poi vengono da noi utilizzati preferibilmente su progetti specifici e devo dire che questo progetto, che al nostro interno abbiamo chiamato una culla per operare, ha toccato subito un nervo sensibile nel nostro comitato direttivo. Se un minimo abbiamo toccato anche le vostre corde, non solo le nostre corde, sulla necessità di aiutare per quanto possibile chi opera in questo settore, potete andare sul nostro sito www.celiazzurri.it dove avete la possibilità di fare una donazione a nostro favore e prima di questo immagino vedere un resoconto molto accurato di come vengono investiti i nostri soldi, constatare che siamo una delle associazioni che ha i costi operativi più bassi, quindi quasi tutti i fondi che vengono investiti con noi vanno direttamente su progetti pratici ed efficaci. Potete alla prossima primavera ricordarvi di noi per quanto riguarda 5x1000 oppure ancora meglio contattarci e vedere in quale modo potete aiutarci. Grazie infinito.